Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Una partita sul filo del rasoio, come tutte d'altronde. Siamo nella puntata del 20 maggio 2023. Il padrone di casa presenta il nuovo concorrente, si chiama Francesco e rappresenta la Lombardia. Il suo percorso ad affari tuoi comincia subito alla grande, tant'è che Amadeus resta di sasso nello scoprire che l'uomo ha sin da subito a mente cosa fare e cosa no. Alla fine Francesco resta con un solo pacco azzurro e ben sei pacchi rossi. Una cosa davvero rara in un gioco come questo. E pensare che solo qualche sera prima, una concorrente molto sfortunata era rimasta con diversi blow e solo qualche pacco rosso. diametralmente opposta alla vicenda di Francesco. Amadeus sin da subito gli dice, che ad un tratto esclama, Francesco, cerchiamo di cambiare la tendenza questa sera, perché nelle ultime puntate le cose sono andate sempre male. Nessun problema per il rappresentante della Lombardia che invece è parecchio fortunato. Francesco allora guarda Amadeus e dice, penso di avere di sicuro qualcosa di rosso nel mio pacco. A questo punto il dottore chiama il conduttore al telefono e fa una proposta. L'uomo decide di fermarsi e accettare l'offerta generosa di 30.000 euro. A quel punto l'uomo scopre che aveva il pacco da 5.000 euro. Il pubblico super d'accordo con Francesco e col suo intuito che lo porta a guadagnare una cifra molto alta, rispetto a quello che poteva vincere realmente. Una puntata davvero intensa e felice per il pubblico e soprattutto per Francesco dalla Lombardia.